Buongiorno e benvenuti a Oltre la Cronaca, l'appuntamento quotidiano con l'informazione. Papà Francesco ha ricevuto oggi in udienza privata il Cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Nel corso dell'udienza Francesco ha autorizzato la congregazione a promulgare i decreti riguardanti 15 nuovi santi e beati, tra cui 7 missionari e un laico uccisi in odio alla fede e un parroco. E oggi, 8 luglio, ricorre il terzo anniversario della visita di Papa Francesco a Lampedusa, a metà del suo primo viaggio apostolico. Ieri il presidente del Senato Pietro Grasso, insieme al sindaco di Lampedusa, al prefetto e alle autorità civili, militari e religiose, ha deposto una corona in ricordo dei migranti scomparsi in mare. Il pontefice lanciò in mare una corona di fiori e incontrò alcuni migranti sul molo, celebrando la messa nel campo sportivo di Lampedusa. Dov'è tuo fratello? Papa Francesco chiedeva di risvegliare le nostre coscienze perché ciò che era accaduto non si ripetesse. A tre anni di distanza vogliamo tornare sul significato di quella visita con padre Ripamonti, presidente del centro Astalli. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, a tre anni di distanza risuonano ancora forti le parole di Papa Francesco. Sì, certamente era stato un invito molto forte quello di risvegliare le coscienze, di non addormentarsi, quello di non far prevalere la globalizzazione dell'indifferenza. E quindi credo che siano state delle parole importanti, anche se purtroppo a distanza di tre anni da quella data continuano a esserci queste morti nel Mediterraneo e le persone continuano a morire. Ecco, quindi purtroppo dobbiamo tornare a parlare della globalizzazione dell'indifferenza, del fatto che ci si sia un po' abituati alla sofferenza dell'altro. Purtroppo sì, purtroppo forse continuare a vedere queste immagini non ha fatto risvegliare a noi quel senso di responsabilità, dove è tuo fratello, diceva il Papa nell'omiglia di quel giorno, ma appunto ci stiamo un po' abituando a queste immagini, anche ai numeri, 1, 2, 100, non fanno la differenza. E quindi credo che siano ancora più attuali quelle parole di non abituarci a questa perdita di vite umane che non ha senso, basterebbe appunto garantire a queste persone dei corridoi umanitari. Ecco, a tre anni di distanza qualcosa di positivo eventualmente che si possa segnalare? Beh, certo, dopo anche i continui inviti di Papa Francesco ad aprire le porte di parrocchi e di istituti religiosi, possiamo registrare come tante persone hanno risposto a questo invito e diciamo questa accoglienza è diventata concreta, fattiva in molte città e questo è un dato certamente positivo che ha delle ripercussioni positive su una cultura dell'accoglienza che è fondamentale per il nostro futuro. Purtroppo, oltre a dover tornare a parlare della indifferenza, dobbiamo anche parlare in questi giorni di razzismo, penso a De Manu, il richiedente asilo nigeriano, barbaramente ucciso ieri a Fermo. Sì, certamente, appunto, quelle parole di non lasciare che la coscienza si addormenti, ancora di più non dobbiamo lasciare che questa banalità del male serpeggi nelle nostre società e questi episodi vanno denunciati, vanno stigmatizzati perché sono il segno che qualcosa non sta funzionando nell'opinione pubblica, nella società civile e quindi appunto bisogna denunciare questi episodi di razzismo perché sono il segno di qualcosa che serpeggia, di un malcontento che serpeggia, di una cultura della paura dell'altro che non va bene. Dobbiamo invece sforzarci in ogni modo di incontrare, conoscere chi è diverso da noi per creare una cultura invece dell'incontro e del dialogo. Grazie padre Camillo Ripamonti e buona giornata. Grazie a lei. E dopo 21 udienze e 8 mesi si è chiuso il primo grado del processo in Vaticano per appropriazione e divulgazione di documenti riservati. Il Tribunale ha prosciolto i due giornalisti Gianluigi Enuzzi ed Emiliano Fittipaldi e assolto Nicola Maio e condannato Monsignor Balda e Francesca Inmacolata. Per Monsignor Balda, ex segretario della Commissione incaricata di studiare e raccogliere i dati sugli enti vaticani e della Santa Sede, la condanna a 18 mesi di carcere. Secondo i magistrati ha dunque sottratto e consegnato ai giornalisti i documenti riservati. Il prelato resterà in semi libertà entro i confini vaticani. Condannata per concorso anche Francesca Sciacui a 10 mesi di detenzione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il venticinquesimo rapporto immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes descrive una scuola sempre più multietnica, soprattutto nelle regioni della Nord. Da questo proposito Caritas e Migrantes lanciano l'appello per una rapida approvazione della legge sulla cittadinanza, ora al vaglio del Senato, che prevede l'introduzione dello ius soli in forma temperata e un iter particolare per i minori stranieri arrivati da piccoli in Italia. Ne abbiamo parlato con il professor Agostino Portera, direttore del Centro Studi Interculturale dell'Università degli Studi di Verona. Nell'anno scolastico 2014-2015 erano 814.187 gli alunni stranieri nelle scuole italiane, di cui 445.534 nati in Italia, aumentati del 7,3% rispetto all'anno precedente. Il 9,2% della popolazione scolastica italiana, con una crescita annuale dell'1,4%. Sono alcuni dei dati che emergono dal 25esimo rapporto Immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, che mette in luce una scuola sempre più multietnica, soprattutto nelle regioni del Nord. È l'Emilia-Romagna che registra il valore più alto di alunni stranieri, nelle classi il 15,5%, seguita da Lombardia con il 14,3% e dall'Umbria. La presenza di alunni straniere nella scuola rappresenta un rischio, ma anche una grande opportunità si è affrontata bene. Per affrontarle bene è necessario acquisire delle competenze interculturali tramite un'educazione interculturale. Adesso in sintesi quali sono le caratteristiche? Innanzitutto la necessità dell'incontro. Noi i concetti precedenti parlavano di una convivenza pacifica. Abbiamo visto che la multicultura è fallita, questo è dappertutto. Prima o poi arrivano i conflitti e gli scontri. Invece l'intercultura cerca di educare all'incontro, al dialogo, che è fondamentale e non è spontaneo il dialogo, ma bisogna essere educati a questo. E poi al confronto, cioè dire l'opinione propria, anche se è diversa da quella degli altri. Caritas e Migrantes lanciano quindi l'appello per una rapida approvazione della legge sulla cittadinanza, ora al vaglio del Senato, che prevede l'introduzione dello ius soli in forma temperata e un iter particolare per i minori stranieri arrivati da piccoli in Italia. Secondo me sarebbe necessario e urgente adottare la legge sulla cittadinanza perché innanzitutto con un punto di vista legale, giuridico, che acquisiscano diritti ma anche doveri, come tutti i cittadini. Ma poi sotto il piano anche psicologico o psicopedagogico diremmo, che nessuno si sente escluso. Come si dice che ogni persona di buona volontà sia accolta nel nostro Paese con le opportunità e i limiti legali che già abbiamo in Italia. Persone che si sentono accolti bene sono anche più disposte ad inserirsi in maniera positiva e a contribuire al cammino della nostra civiltà. Parliamo adesso della situazione in Sud Sudan. Domani ricorrerà il quinto anniversario dell'indipendenza di quello che è il più giovane degli stati africani che ha visto nell'ultimo anno e mezzo la più cruenta guerra civile del continente africano con 50.000 morti, oltre 2 milioni di sfollati e profughi, stupri di massa e arruolamento diffuso di bambini soldato. E ci sono stati scontri a un checkpoint nella capitale, 4 soldati uccisi proprio alla vigilia dell'anniversario dell'indipendenza. Confermare gli scontri a fuoco, riferiscono fonti di stampa locali, e sono stati ufficiali dell'esercito regolare ed ex ribelli integrati in una forza di sicurezza congiunta. Ma per capire quale sia oggi la situazione, dopo i recenti accordi di pace e la formazione di un governo di unità nazionale, abbiamo in collegamento telefonico padre Aurelio Boscaini, redattore di Negrizia. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Le ultime notizie dicono che il Sud Sudan rinuncerà a celebrare il quinto anniversario della sua indipendenza. Perché? Sì, cioè la rinuncia credo che sia un po' forzata, ma è giusto che non si facciano celebrazioni dopo i numeri che avete elencato e quello che sta succedendo ancora sul Sudan, senza dimenticare che è ancora questo paese più giovane, celebra i suoi cinque anni, ma nella tristezza e nell'amarezza della sofferenza è stravolto appunto in una guerra che sembra non finire più, nonostante il governo di unità nazionale ristabilito e per non dimenticare veramente che un terzo della popolazione sui 12-13 milioni di abitanti che sul Sudan conta, un terzo della popolazione sta soffrendo veramente la fame e questo senza che il mondo se ne dia molta pena, molta cura. Ecco, c'è proprio bisogno, un urgente bisogno di aiuti alimentari. Io ho appena parlato proprio qui a pranzo, qualche minuto fa con il cardinale di Cartunbero che è di origine sudsudanese, la sua eminenza Gabriele Zubei Ruaco che è qui a Verona per delle cure. e parlando di queste cose gli venivano le acrime agli occhi perché del suo paese, della sua gente, del suo popolo si tratta. È una situazione incredibile, così difficile da immaginare anche perché poi noi italiani siamo presi da questi problemi di migrazione che ci rendono lo sguardo così poco orizzontale, quindi che non si allarga molto verso le sofferenze che ci sono ancora nel mondo, ma qui si parla veramente di 4,8 milioni di persone che soffrono in emergenza fame e quindi con tutto quello che comporta per i bambini, in particolare le donne, come malattie e la scarsità di cibo. E sappiamo che dalla scarsità di cibo dipende veramente anche il futuro dei bambini. I nostri sono nutriti bene, ma soprattutto per nutrire il cervello. L'aver fame non garantisce certo un futuro brillante per questi ragazzi. C'è poi anche una grave crisi economica con la svalutazione della moneta nazionale. Sì, quello non bisogna nemmeno parlarne perché è difficile parlare di economia per un paese disastrato come il Sud Sudan. Questo però non ci impedisce di essere ottimisti perché sono centinaia, se non migliaia, di missionari comboniani che hanno avuto a che fare missionari comboniani anche con questo paese. Per questo paese hanno dato la vita, per la sua evangelizzazione evidentemente, ma anche per il suo sviluppo, il suo benessere sociale e umano. E quindi è impensabile che tutto quel sacrificio, tutto quell'amore sia andato perduto. Per cui noi ci condanniamo ad essere ottimisti nonostante tutto. Prova ne è che, insomma, è vero sotto pressione della comunità internazionale, ma un governo è stato ristabilito, una certa pace è ritornata, al di là di questi ultimi avvenimenti che dicono quanto questa pace sia precaria. Ma i missionari sono rimasti, ma non solo i missionari, anche le ONG. Io in questo momento penso soprattutto ai medici QAM di Padova, che sono rimasti là sul terreno a combattere e a soffrire con la gente. Questo non può non rendere noi credenti ottimisti che finalmente il Signore ascolterà la preghiera e l'impegno di tutte queste persone, i nostri fratelli. Certo, quindi guardiamo con ottimismo e lanciamo proprio un appello per abbattere il muro dell'indifferenza del resto del mondo. Sì, purtroppo anche i medi italiani sapranno anche le loro buone ragioni, ma raramente parlano, è vero, un po' se ne è parlato, ma raramente parlano di queste situazioni. Forse ci stiamo abituando un po', Papa Francesco direbbe l'indifferenza, vero, che ci accomuna tutti, però rimangono situazioni, io direi che quella del Sud Sudan non è certamente migliore di quella della Siria, al di là dei bombardamenti che in questo momento non avvengono, ma la situazione umanitaria del Sud Sudan direi che è quasi peggiore, anzi molto peggiore, di quella che sta conoscendo la Siria in questi tempi. Bene, grazie, grazie Padre Aurelio Boscaini per essere stato con noi. E continuiamo. Nei primi mesi del 2016 aumentano ancora le cifre dei poveri greci che si rivolgono alla Caritas e la scompresi gli appartenenti al ceto medio. Nel 2015 le persone che vivevano al di sotto della soglia di povertà erano circa 4 milioni, la disoccupazione al 25%, quella giovanile al 44%. Meno del 10% di disoccupati riceve l'assegno di disoccupazione e 3 milioni di persone non hanno accesso al servizio di assistenza sanitaria e sociale. Sono i dati resi noti oggi ad Atene da Caritas Hellas nell'ambito del seminario Grecia, paradosso europeo tra crisi e profughi organizzato da Caritas Italiana, Missio e Foxiv. Caritas Hellas propone al governo greco alcune misure per combattere la povertà tra cui l'introduzione del reddito sociale di inserimento, l'aumento del salario minimo, il monitoraggio dei senza tetto, la riduzione dell'IVA su energia e beni di base e l'aumento dell'assegno di disoccupazione. E cambiamo argomento. Non dormire bene la notte può avere effetti pesanti e ripercussioni sulla vita quotidiana e soprattutto per chi si mette alla guida. A soffrire di insonnia è una percentuale consistente di italiani. Tra i comportamenti da evitare prima di andare a letto, l'uso del cellulare. Ce ne parla Marina Zerma. Il momento del sonno è un tempo importante della nostra vita da non sottovalutare. Dormire bene si ripercuote positivamente su tutta la nostra esistenza, dalle relazioni con gli altri alla resa sul lavoro, alla prontezza di riflessi di fronte alle difficoltà. Eppure c'è una buona percentuale di persone che soffre di disturbi del sonno. I disturbi del sonno sono molto frequenti nella popolazione. Il più diffuso in assoluto è l'insonnia che colpisce il 40% della popolazione italiana con almeno un episodio all'anno. E di questi il 60% diventa cronico. Poi abbiamo come malattie molto frequenti la sindrome delle apneostruttive del sonno che colpisce tra i 6 e i 10 milioni di italiani. E poi abbiamo la sindrome delle gambe senza riposo che arriva a 3 milioni di italiani ma è una malattia pressoché sconosciuta. Ecco, quanto incide questo sulla qualità della vita delle persone? Il sonno è molto importante passiamo il 30% della nostra vita dormendo ed è l'attività che facciamo di più in assoluto quindi è fondamentale per la nostra vita ma spesso è sottovalutato. Dormire male vuol dire vivere male il giorno dopo che vuol dire sia da un punto di vista relazionale che di performance lavorative di studio quindi una grave riduzione di queste situazioni. Soprattutto quando ci si mette alla guida che è un'attività in cui serve concentrazione e anche attenzione avere una sonnolenza vuol dire aumentare enormemente il rischio di incidenti. Quali sono le pratiche da mettere in atto? Beh, la prima pratica è quella di accorgersi di avere un'eccessiva sonnolenza di uno e quindi domandarsi come mai di giorno si è sempre stanchi e si ha un po' quella sensazione di addormentamento. Una volta che uno riconosce quel sintomo la cosa principale è capire se dipende dal nostro stile di vita perché questa è la cosa più importante quindi dormire poco per lavoro o per attività ludiche oppure dormire poco e male per una patologia. Se è questo il caso bisogna far riferimento al proprio medico curante che poi nel caso invierà presso un centro specialistico. Al centro di medicina del sonno dell'ospedale Sacro Cuore di Negrar vengono monitorati i pazienti che soffrono di disturbi mentre dormono per poter intervenire con le terapie più appropriate. Tra i comportamenti da evitare prima di chiudere gli occhi per un buon sonno l'utilizzo del cellulare. L'utilizzo del cellulare proprio nei minuti prima anzi a volte spesso nelle decine di minuti prima di dormire. È un errore è un errore importantissimo che sta creando molta insonnia iniziale cioè proprio di addormentamento perché gli strumenti tecnologici emettono una luminescenza nella fascia dell'azzurro che è quella della luce diurna che va a bloccare la secrezione della melatonina e quindi rende molto difficoltosa l'addormentamento. Non bisogna farla. Sono migliaia i volontari della comunità di Sant'Egidio impegnati a fianco degli anziani che garantiranno una presenza e una reperibilità in caso di bisogno con telefonate visite e interventi d'emergenza in 20 città italiane da nord a sud da Genova a Messina. Sant'Egidio nei mesi estivi rafforza i suoi interventi a favore degli anziani e rivolge un appello alle autorità perché rendano più intensi le iniziative a tutela degli anziani ma anche a tutti gli italiani perché durante il giubileo della misericordia mostrino un'attenzione particolare a chi è maggiormente isolato e in difficoltà intervenendo personalmente con atti di solidarietà che possono salvare una vita e segnalando tempestivamente le situazioni di criticità e questa mattina è stato presentato il report annuale sugli interventi della comunità Papa Giovanni XXIII a favore delle maternità difficili ne parliamo con Enrico Masini responsabile generale del servizio famiglia e vita della comunità Papa Giovanni XXIII Buongiorno Credo che non sia ancora pronta la telefonata Mentre cerchiamo di ripristinare il collegamento diamo spazio ad un'altra notizia la FOXIF la Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario aderisce alla petizione popolare del MASHI Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani per il riconoscimento dei diritti umani degli immigrati una firma per passare dall'emozione all'azione rivolta al Parlamento Italiano e a quello europeo l'iniziativa è sostenuta anche dal Coppercom ma ritorniamo appunto a parlare del report annuale sugli interventi della comunità di Papa Giovanni XXIII a favore delle maternità difficili con noi al telefono Enrico Masini responsabile generale del servizio famiglia e vita della comunità Papa Giovanni XXIII buongiorno ecco buongiorno buongiorno a tutti buongiorno quali sono i dati principali che emergono dal report che è stato presentato questa mattina sì ecco noi abbiamo portato su un campione di 500 mamme gestanti incontrate e sostenute dalla comunità Papa Giovanni XXIII come nei due terzi dei casi è stato è stato sufficiente una vicinanza e un aiuto concreto per scongiurare un aborto e questo a significare come una mamma che chiede di abortire in realtà chiede aiuto chiede aiuto per essere libera di poter accogliere il figlio che già porta in grembo in condizioni dignitose e quindi noi offriamo un supporto amicale un accompagnamento fino a all'instaurarsi di una relazione familiare con l'accoglienza delle nostre famiglie e case famiglie e possiamo affermare che il restante terzo dei casi di aborto possono essere risolti togliendo ogni discriminazione fra prima e dopo la nascita con il riconoscimento del valore della vita umana anche nascente e fra una donna incinta e non incinta rilevando nel nostro report come le donne che si ritrovano in condizioni di gravidanza rischiano di non farcela da sole e va riconosciuta come una condizione particolare di fragilità in cui se c'è un lavoro è altissimo il rischio di perderlo in quanto oggi le infra quarantenni quasi sempre hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato e sfido chiunque a trovare una donna che abbia invece trovato lavoro durante la gravidanza quindi il supporto delle istituzioni è fondamentale perché non diventi una scelta di lusso accogliere un figlio e non semplicemente la realizzazione di un desiderio e il drammatico calo demografico a cui stiamo assistendo dovrebbe richiamare l'intera collettività a porre fronte a questa situazione con un'agevolazione concreta proprio per togliere la discriminazione fra l'essere in gravidanza e il non essere in gravidanza ecco poi proprio oggi è stato rilevato che nel 2015 in Italia il tasso di natalità è stato quello più basso di tutta l'Unione Europea sì l'aborto in Italia è diventato una sorta di regolazione delle nascite di Stato non solo privata ma di Stato in quanto la nostra società ha preteso attraverso questo strumento di non far nascere bambini con problemi di salute con problemi di disabilità appartenenti a famiglie povere o già con disagio sociale e tutte queste limitazioni hanno fatto sì che le nascite abbiano subito un tracollo è stata la questione ideologica che ha fatto sì che nessuna istituzione pubblica abbia messo in atto un solo euro di spesa in favore del sostegno alle maternità difficili ecco entriamo nello specifico dell'attività del servizio famiglia e vita della comunità Papa Giovanni XXIII sì noi semplicemente ci rendiamo disponibili ad incontrare e a sostenere che si trova con una difficoltà soprattutto legata allo stato di gravidanza quindi normalmente riceviamo una telefonata al nostro numero verde mi permetto di dire 800 035 036 e subito si instaura una relazione di ascolto di accoglienza di confronto amicale diciamo e molte di queste donne ci dicono ma siete i primi che mi dicono che posso farcela e talvolta è sufficiente questo l'incoraggiamento altre volte assistiamo a situazioni di emarginazione di problemi economici abitativi e cerchiamo insieme di trovare le soluzioni che servono davvero qui ed ora a risolvere il problema della persona che abbiamo di fronte e che la stanno portando alla drammatica scelta di liberarsi del proprio bambino e questo vediamo come in due casi su tre risulta efficace e la mamma trova coraggio e forza per affrontare la situazione che sta vivendo e noi l'accompagniamo non per un periodo limitato ma per tutto il tempo di cui c'è bisogno quindi il nostro non è un progetto è la scelta di costruire un progetto insieme con la possibilità di rendere felice una mamma il suo bambino e la sua famiglia bene grazie Enrico Masini e buon lavoro e buona giornata grazie a voi del vostro servizio arrivederci arrivederci e prima di chiudere vi ricordo la diretta delle 18 e 30 dalla chiesa di Santo Spirito in Sassia a Roma l'appuntamento con le catechesi giubilari pregare la misericordia la madre della misericordia e con questo è tutto oltre la cronaca tornerà lunedì sempre in diretta alle 13 e 30 arrivederci grazie a tutti